buonasera buonasera allora vedete a furia di parlarne poi effettivamente è successo lo dicevamo questa mattina insomma è arrivata la risoluzione del contratto tra juventus e ramsey della juventus con ramsey risoluzione non rescissione come si legge da altre parti sono due situazioni diverse la rescissione può essere contenuta in una clausola può riguardare vizi di forma del contratto la risoluzione invece comporta fatti sopravvenuti alla stipula del contratto c'è la famosa risoluzione per inadempimento contrattuale non so a quale tipo di soluzione si si è appellata la juventus ma comunque è arrivata è arrivata quindi risparmiati più di 10 milioni lordi molto più di 10 milioni lordi e poi soprattutto anche a livello tecnico a livello umano diciamo così questo è un rapporto che si era ormai definitivamente logorato anche a causa delle delle frequenti dichiarazioni che ramsey rilasciava quando andava in nazionale insomma era evidente che lui voleva lasciare la juventus poi chiaro che se voleva lasciare le sue condizioni e ora io non so che giro di soldi ci sia stato sotto questa probabilmente non si saprà mai qual è l'esatta l'esatta somma per la quale si sono messi d'accordo però insomma si è arrivati alla conclusione di questa di questo di questo rapporto che sostanzialmente non è mai sbocciato ieri di ram si ricordo il gol del 2 del dell'1 a 0 contro l'inter nella prima partita a porte chiuse sicuramente molto importante ricordo un bellissimo gol su assist di di bala a ferrara poco prima del lockdown quindi tra l'altro segno in due giornate consecutive in quel periodo ricordo un gol a genova l'ultimo gol che ha segnato nel dicembre o nel gennaio del 2021 adesso non ricordo comunque vabbè ma non ricordo partite memorabili di a rom ranzi che era sicuramente un ottimo giocatore quando era all'arsenal segna una volta che un gol pazzesco di tacco poi si fece male tre mesi prima di arrivare alla juventus e sostanzialmente fu acquistato la juventus e adesso voi fate subito il parallelo con Pogba certo si si fa male non sta bene c'entra la juventus lo acquista ragazzi sto leggendo ma veramente un disfattismo ma un disfattismo per questa situazione di Pogba che sembra diventato tra l'altro il problema principale dell'esistenza umana al di là di questo però va bene è sicuramente un problema per per il mondo della juve ma leggere un disfattismo del genere ragazzi mi vengono in mente veramente altre tifoserie ma veramente ma veramente cioè calma o cioè verrà operato adesso sapremo se come quando dove eccetera 40 giorni saranno 60 sono due mesi cioè ragazzi 15 vanno già via è vero è una fase di preparazione ma quando si parla di 40 60 giorni si significa conteggiare anche la fase di preparazione che lui ha perso ok cioè vorrei che alcuni concetti fossero anche abbastanza chiari 40 60 giorni non sono la guarigione clinica c'è dentro anche se fossero 60 c'è dentro anche la preparazione che lui deve recuperare ovviamente la interrompe e quindi deve riprendere la preparazione cioè bisogna anche cercare anche un po di capire come stanno le cose certe previsioni sono legate anche a questo cioè la previsione è quando rientra in campo quando è disponibile è chiaro che se interrompe la preparazione nel conteggio che tu fai ci metti anche la preparazione da recuperare fine del discorso fine del discorso quindi veramente mi sembra che si stia esagerando andando veramente oltre oltre il ponderabile cioè ragazzi su poi ovvio se fa tutta l'annata e fa una partita si e 10 no allora avrete ragione va bene allora sarà un grave problema ma aspettiamo veramente a dire certe cose perché qua noi siamo il paese delle sentenze e questa tifoseria mi sta venendo l'assomigliare ad un'altra che vive per anni e ha vissuto per anni di sentenze e di depressioni e di proclami di sfiga ok ecco mi sta mi sta cioè dai è che cacchio cioè che poi come se la juventus no vai 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 adesso si fa un po basta via crollo fino anche quest'anno forse 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 il quarto posto forse non è detta forse il quarto posto secondo me se la gioca con la cremonese per arrivare sedicesima sedicesima perché manca pogba quindi manca tutta la juve attenzione secondo me se la gioco ecco sarebbe veramente emozionante per uno di cremona come me vedere il juve cremonese che si gioca nel sedicesimo posto da cavoli su è un pochino cioè io capisco l'arrabbiatura capisco lo sconforto capisco tante cose ma da qui a sentenziare già al 26 27 di 26 di luglio sulla prossima stagione della juve ma ragazzi è una roba di una pochezza veramente cioè mettete da parte un attimo la pancia ragionante col cervello mi rivolgo ai catastrofisti che sto già leggendo poi che uno possa avere dei dubbi che uno possa essere allarmato per la stagione che verrà per il giocatore sia chiaro lo posso anche capire ma le visioni catastrofiche sono veramente da 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 ma io non lo so cioè non guarda preferisco non qualificarne in alcun modo perché poi mi esprimerei in un modo che non vorrei in un modo che vorrei evitare ok detto questo questa cessione cioè questa risoluzione del contratto con ramsey è chiaro che può favorire nuovi scenari di mercato legati a quel nome lì che salta sempre fuori quello di paredes per il quale non è stata ufficialmente presentata nessuna offerta perché si vuole cercare di capire perché si fa leva anche sulla volontà del giocatore che andrebbe molto volentieri alla juventus è in quella squadra di quattro brocchi che non vale niente che forse giocherà per il sedicesimo posto ok e e quindi si fa leva su questo poi volete la mia opinione cioè per me potrebbe giocare a fagioli però io non sono la juventus io parlo di juventus io vi dico quello che conosco che so quello che mi arriva e che ritengo attendibile ok ma poi esprimo anche delle opinioni giustamente esprimo perché non partecipo alle operazioni di mercato non mi fanno sedere al loro fianco quando ricevono telefonate o inviano mail o parlano con giocatori non è consentito ok poi chiaro che qualcosina mi arriva quello che vogliono farmi arrivare bene ok ma più di quello non posso dire ok poi non mi piace buttarmi lanciarmi dalla finestra sperando di atterrare senza farmi male ok preferisco se devo buttarmi mettermi in paracadute non so se si capisce il concetto ci sono persone che si buttano poi hanno il culo che possono risalire dalle scale e buttarsi un'altra volta ok sulle notizie con le notizie buttarsi ok buttati 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 prima o poi un materasso sotto qualcuno te lo mette e ci hai beccato e allora ah grandi sapevano tutto sei mesi fa spari mille nomi e uno lo prendi e non sono così prendetemi per come sono ragazzi poi mi dicono è vero ma tu c'ha ragione anche gente dice che io sto perdendo tempo a rispondere è vero è vero anche purtroppo io sono fatto così poi dopo io sono sono sicuramente una persona molto tranquilla ma poi divento anche sanguigno quando detto sanguigno vado partono le mitragliate e credo che sia normale c'è da sistemare arthur c'è da sistemare arthur e sarà il prossimo sarà il prossimo passo e poi la juve potrà potrà pensare di formulare un'offerta per per farebbe se lo riterà opportuno iscrivetevi al canale ok anche quelli che pensano che lui arriverà sedicesimo iscrivetevi al canale ciao